Guardo che bella giornata, che bella giornata a guardare le stazioni dell'Abrianza. Eccola il nome indicato, Casletto Rogino. Qui sono alla stazione dell'Abrianza prima di Molteno, esattamente. Adesso aspetto il treno che va poi a Brenna Alzate, passa da Merone e va a Brenna Alzate. E intanto guardo questa bella stazione, Casletto Rogino. Sì, è tenuta bene, però ha un qualcosa in più la stazione di Brenna Alzate, perché ricorda il Novecento. Ecco qua, oggi una bella giornata, i prati verdi e soprattutto il binario unico che vedo di fronte a me. Poi la prossima volta vado in comune di questo paese a chiedere un'informazione riguardo alla stazione. Ci sono tante stazioni abbandonate in Lombardia. E io ci tengo a sapere queste stazioni a chi possono dare per ottenere il decoro proprio alla stazione, a quale persona. Ecco qua, binario unico, devo dire che salire qua in treno c'è quasi un metro di altezza, perché il treno è obliquo. E in più sono i treni che non sono adatti a questa superficie terrena, da fare il livello pari tra pedoni e viandante che va sul treno. Non c'è neanche la linea gialla. Ecco che sta per arrivare il treno. Il treno è quello nuovo. Arriva proprio in questo momento, lo fotografo e sono, ripeto, di nuovo la stazione di Casletto Rogino. Ecco che sta arrivare, si vede il treno in fondo, ora ora si avvicina sempre di più. Lo aspetto e salgo tra poco e vado nelle prossime stazioni dell'Abrianza. Aldo, Aldo, il treno sta per arrivare. Aldo.